Io ci avevo creduto sinceramente Tu? Che stavamo insieme Ma che cazzo stai a dire? Parlo del pordelone Ah io pensavo che stavamo raccontando della nostra Della nostra storia sessuale Tanto è zitto che questi poi ci credono veramente che sto gay Già lo dicono sempre Non è vero ragazzi Il buon Alessandro è tornato O meglio la trasformazione Pokémon del buon Fabio Ma parliamo della partita dell'Inter Perché noi stavamo in giro e ce la siamo vista un po' a spezzettoni Prima al ristorante, poi al pub, poi alla pizzeria I calci di rigore li abbiamo seguiti A quanto pare 5 a 4 Yuto Nagatomo addirittura decisivo per la vittoria dell'Inter Che a fatica passa e va ai quarti di finale Che ne dici? Che ti favamo pordenone? Che ti favamo pordenone Ti favamo pordenone perché una cosa del genere non si era mai vista E sinceramente nessuno guardando la partita all'inizio Pensava che si sarebbe potuto addirittura portare ai calci di rigore L'avete visto oggi pomeriggio il pronostico effemminato play? Ragazzi 0 a 0 ai calci di rigore Però a noi è finita in maniera diversa Ovviamente i pronostici si verificano sempre al contrario Quindi ha vinto l'Inter C'è qualcosa da aggiunge? Io ora è un importante Vuoi fare un appello? Un importante messaggio sociale Si alza la voce che magari in te sentono Un importante messaggio Ricordate di sterilizzare i vostri animali Un'altra volta Sempre Tu ogni volta che noi ci vediamo a un video insieme devi sparare a sta stronzata No non è una stronzata, è una cosa seria ma non c'entra niente col video No è importante È importante perché poi se praticamente state a letto e l'animale non è sterilizzato potrebbe Esattamente Ok come stava succedendo stasera con l'Inter Stessa identica cosa il Pordenone era l'animale Eh vabbè Ragazzi che stai a fare? Mi fate sapere che cosa ne pensate nei commenti di questa partita Noi stiamo facendo una serata hot tra uomini e donne No tra solo uomini in realtà Questo sta a maniche corte Ci stanno 4 gradi e mezzo C'è una maglietta di Pacman Ma che stai a fare? Space Invaders Space Invaders scusa Va bene così Stiamo guardando gli annunci porno Sì assolutamente sì Lo confermo Mi piace commentate Condividete Iscrivete al canale Ci fate sapere che ne pensate della partita dell'Inter Alla fine dei fatti secondo voi Meritava di più il Pordenone Fagli vedere lo spendito scorso del Voglio sapere Del grattacielo della Dina Ecco Ha svelato dove stiamo Stiamo alla Dina De conseguenza Niente io direi che ci possiamo salutare Ci vediamo alla prossima Vi lascio ai commenti Voglio sapere quello che ne pensate voi Sull'Inter Meritava o no Io forza Pordenone Già l'ho detto Perché comunque ragazzi Una squadra di Serie C Che arriva agli ottavi E' ovvio che uno la tifa Da non tifoso Certo se andava contro a Roma E' ovvio che tifavo Roma Esattamente Forse perché magari tifavamo comunque Pordenone No Sì Ciao